Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale. Io sono Trisha e oggi insieme classifichiamo tutti i libri che ho letto nel 2023. È già uscito il video sui top e i flop, ma in questo caso parliamo di tutti e 61 i libri che ho letto nell'anno appena trascorso. Food Riz riporta che io ho effettivamente concluso la mia Reading Challenge, che era di 60 libri, avendo ne letti 60. In realtà ne manca uno perché sulla piattaforma non era presente e quindi in realtà ho letto 61 libri su 60. Sono particolarmente felice e soddisfatta di aver raggiunto questo traguardo, definiamolo così, però come ripeto sempre la cosa essenziale è la qualità di questi titoli e assolutamente non la quantità. Sono però comunque molto contenta di aver letto così tanto nel 2023 e spero che il 2024 vada altrettanto bene sia per quanto riguarda appunto la quantità che la qualità. Oggi vi andremo a vedere tutti insieme. Ovviamente cercherò di essere molto molto rapida. Questo è semplicemente un recap e un modo per stare insieme, diciamo, per divertirci. Infatti non ci saranno grandi recensioni, non ci sarà una grande accuratezza di dettagli per quanto riguarda le mie impressioni, le mie opinioni relative a questi titoli. Molto semplicemente li andremo a inserire in questa lista che è fatta proprio per giocare e per divertirci praticamente. Io infatti spero che questo possa essere un contenuto di vostro gradimento. Mi scuso anticipatamente se non verrà benissimo, ma io sono veramente una frana con la tecnologia. Spero di aver capito come funzioni questa cosa di Tier List. Spero di riuscire a mettere insieme tutte le varie clip. Incrociamo le dita. Spero che gli occhiali non vi diano troppo fastidio perché se alzo appunto lo sguardo così vedete la luce della ring light riflessa nei miei occhiali. Però altrimenti non riesco assolutamente a leggere. Comunque detto questo vi leggo le varie categorie. Abbiamo la prima categoria che è quella dei top, quindi i libri che personalmente ho preferito nel 2023. I ci siamo quasi, quindi quei libri che mi sono piaciuti, però appunto ci sono degli elementi che mi hanno convinta poco. Poi la categoria ho delle riserve, quindi titoli che mi hanno lasciata un po' interdetta, non ho un'opinione ben precisa. Potevo fare di più. Siamo tra i bocciati e quelli che invece mi sono piaciuti, ma comunque non so se porterò con me nel 2023. E poi i flop. Per flop si intende sia libri che ho bocciato in generale, sia libri che magari hanno semplicemente deluso le mie aspettative perché erano un attimino alte, ovviamente per colpa mia. Non sono in ordine cronologico, quindi andremo un po' a caso nel sistemarli. Io inizierei con l'ultimo libro letto nel 2023, per non farci mancare niente. E cioè consigli eccellenti per vivere. I nomi degli autori e delle autrici credo che ve li scriverò in alcuni casi in sovraimpressione, li aggiungerò dopo perché io purtroppo non leggo benissimo sull'iPad, cioè le copertine sono veramente molto piccole quindi di alcuni non so dirvi chi effettivamente li abbia scritti. Comunque, consigli eccellenti per vivere. Un titolo veramente brevissimo, trovato nel calendario dell'avvento del saggiatore. In realtà volevo regalarlo a una mia amica nell'immediato, però poi ho detto se è che c'è, lo leggo. Proprio per concludere in bellezza la mia Reading Challenge, nonostante fossi già arrivata a 60 libri. E' un titolo carino, cioè secondo me molto retorico, scontato. Ci sono veramente dei consigli spesso secondo me paternalistici al massimo. Soprattutto consigli che derivano, penso e credo, da una persona con una posizione privilegiata all'interno della nostra società perché ci sono dei consigli, secondo me, ridicoli per le persone normali. O quantomeno per me, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto lavorativo e la relazione con le altre persone. Alla fine non è male, devo dire la verità. Per me, sinceramente, dico, poteva fare di più. Passerei al primo titolo che ho letto nel 2023, cioè La ragazza di Bube di Carlo Cassola. Un titolo sulla resistenza italiana, secondo me molto sottovalutato, perché ne sento parlare veramente pochissimo. E' sicuramente conosciuto, ovviamente non devo dirlo io, che è un titolo importantissimo. Però, secondo me, viene letto molto poco rispetto ai titoli più classici. Detto questo, io l'ho apprezzato parzialmente, nel senso che riconosco l'importanza, alla grandezza storica, letteraria di questo titolo, però non mi ha fatto impazzire. La protagonista femminile è sicuramente una protagonista interessante. Siamo finalmente di fronte a personaggi non sempre stereotipati, classici personaggi positivi e negativi, ma un attimino più caratterizzati, anche per quanto riguarda il contesto della guerra, del conflitto mondiale e quindi della resistenza, soprattutto nel periodo nazifascista. Però, appunto, non mi ha conquistata, quindi vi dico, anche qui poteva fare di più. Poi, passiamo all'unica, credo, graphic novel che ho letto nel 2023, ma meglio una che niente, e cioè Pelle d'Uomo di Hubert Zanzim, se non sbaglio. Racconta, appunto, la storia di Bianca, questa giovane donna che è costretta a sposarsi, come in uso, diciamo, durante il periodo medievale, con un uomo che, appunto, lei non conosce. Scopre, però, questo segreto di famiglia che le consente di indossare una pelle d'uomo e quindi di infiltrarsi nel mondo maschile, appunto, assumendo le sembianze di un uomo. È una graphic novel che affronta tematiche LGBT, molto interessante dal punto di vista della caratterizzazione dei personaggi, della loro storia evolutiva. Mi è piaciuta tantissimo anche per quanto concerne i disegni, quindi l'elemento visivo. Io, se non sbaglio, l'ho inserita nella classifica top del 2023 e quindi anche in questo caso, per me pelle d'uomo è top. Poi, Conversazioni Sicilia di Vittorini. Conversazioni Sicilia di Vittorini l'ho inserito nei flop del 2023. Diciamo che in una classifica che si divide prettamente in top e flop, per me rientrava nei flop, molto semplicemente perché ho trovato molto ridondante in alcuni momenti e troppo veloce in altri. Cioè, io credo ci fossero delle tematiche come il rapporto filiale, il rapporto con la madre venga investigato troppo poco, così come il rapporto con la Sicilia e più che altro il rapporto con i siciliani che viene indagato un attimino di più. Avrei preferito appunto che si concentrasse su quest'altra parte, su quest'altra tematica, però sicuramente è un titolo molto bello, nostalgico, che sottolinea l'importanza del ritorno alla terranatia. Sicuramente è un topos narrativo molto utilizzato nella letteratura italiana. Detto questo, non lo metto in flop perché appunto mi è piaciuto, ho delle riserve e quindi lo metto in ho delle riserve. Poi, Ragazze per bene di Olga Campofreda, titolo che rientra nella collana, nella serie Le Fuggitive di NN Editore. Non ho granché da dire su questo titolo perché ve ne ho parlato veramente tantissimo. Trovo che sia un ottimo romanzo sul femminismo, soprattutto nella contemporaneità, e sul femminismo all'interno delle province, quindi sul ruolo della donna. All'interno di questi contesti, questa necessità di fuggire via per non rispettare certi canoni tradizionali. Per me, Ragazze per bene va incisiamo quasi perché appunto non è un capolavoro, però assolutamente è un bel titolo. Poi, La malnata di Salvioni, un altro titolo italiano contemporaneo. Purtroppo mi ha ricordato veramente troppo, eccessivamente, l'amica geniale. Se non fosse per la collocazione storico-geografica. Per il resto, sembra veramente di leggere la stessa storia, solo che scritta meno bene. Mi dispiace perché secondo me c'erano tanti spunti interessanti, ma non credo che siano stati sviluppati come si deve. Cioè, secondo me, l'autrice si è più che altro soffermata sul riprendere certe reminescenze. Quindi, io dico che per me poteva fare di più. Babel, un fantasy, dark accademia, con delle implicazioni antropologiche, di classe, etniche, sociologiche, storiche, economiche. Babel è veramente un crogiolo di tutto, un insieme di qualsiasi tematica, di qualsiasi argomento. Voi possiate immaginare, si parla anche di condizioni delle donne, si parla di razzismo. C'è una sottotrama thriller giallo. Appunto, secondo me, l'elemento dark accademia viene un attimino messo in disparte nel background, sullo sfondo, per dare invece più spazio a un'altra tipologia di tematiche più impegnate, dal mio punto di vista. I personaggi mi sono piaciuti, la caratterizzazione, la scrittrice, secondo me, è veramente molto brava. Ho apprezzato tantissimo la sua prosa, però non mi ha appunto fatto impazzire, quindi vi dico, ho delle riserve anche qui. Passiamo poi, facciamo un po' di Carrer, perché il 2023 è l'anno in cui mi sono finalmente approcciata a quest'autore e ho letto due titoli, prima i baffi e poi i baffi. I baffi è questo racconto quasi psichedelico sulla follia, sulla perdita dell'io, dell'identità dell'essere umano. Quest'uomo che appunto crede di aver sempre portato i baffi, a un certo punto decide di raderseli per cambiare un po' la sua fisionomia, il suo essere, e da qui comincia appunto questo cammino verso la follia più totale e la completa lacerazione dell'identità. Mi è piaciuto molto, è stato un ottimo approccio, per me assolutamente ci siamo quasi. V13 invece è un reportage, un titolo di non fiction, di cronaca giudiziaria su quelli che sono stati gli attentati di Parigi del 2015, al Bataclan, ma in realtà anche in altri contesti parigini, e poi appunto un riassunto del processo che si è tenuto l'anno scorso, due anni fa, non ricordo, al quale era presente proprio Carrère. Io non ho granché da dire su questo titolo, secondo me è anche un po' difficile esprimere un'opinione, però a me è piaciuto tantissimo il modo di scrivere di quest'autore, soprattutto di tematiche così importanti, così difficili, in particolar modo quando si parla di giustizia, di legge, di garanzia, ecco, sia dell'innocenza che garanzia appunto di una pena. Per me V13 va assolutamente in top. Abbiamo poi crisi di Diamond, come rinascono le nazioni, per me questo saggio va assolutamente in top, perché è scritto veramente benissimo, un'analisi perfetta sulle crisi che alcune nazioni hanno vissuto nel corso del tempo, come e se sono state risolte, e poi un interessantissimo parallelismo sulla risoluzione delle crisi a livello nazionale e quelle a livello personale. Poi abbiamo la sovrana elettrice di Alan Bennett, che io ho ascoltato in audiolibro, per me questo titolo poteva assolutamente fare di più, l'ho trovato un po' troppo retorico e scontato per quanto riguarda la tematica relativa all'importanza di leggere, la scoperta del mondo dei libri, della letteratura, per quanto riguarda la vita della regina d'Inghilterra. Molto dolce, sicuramente tematiche che è sempre importante sottolineare, però non lo so, non mi ha fatto impazzire. Le disobbedienti di Elizabeth Tracy, altro saggio, in questo caso si tratta di un titolo di riscoperta di alcune artiste, soprattutto pittrici del passato, sia più conosciute che meno conosciute, però l'intento del libro è proprio quello di permettere a tante altre persone, a sempre più lettori e lettrici, di non dimenticare queste figure che in realtà sono state fondamentali per quanto riguarda l'arte visiva e nello specifico appunto la pittura. Mi è servito molto per la tesi, io lo inserisco in Ci siamo quasi. Poi, altro titolo che ho letto verso la fine dell'anno, Buste di poesia di Emily Dickinson, altro titolo che io ho trovato nel calendario dell'avvento del saggiatore, la scrittura di Dickinson a me piace sempre tantissimo, io mi commuovo di continuo quando leggo delle sue poesie, per me assolutamente in top. Poi, passiamo ad un mattone, cioè l'ottava vita per Brilka di Nino Ratishvili. Anche questo titolo ve l'ho inserito nella classifica top del 2023. Io non ho tanto da dire su questo libro, ve ne ho parlato spesso durante l'anno, l'ho trovata incredibile, voglio assolutamente recuperare l'altro titolo dell'autrice, che se non sbaglio è uscito proprio verso la fine del 2023, metà del 2023 in Italia. Tutta la luce che manca, la luce che manca, una cosa del genere, per me è veramente un romanzo incredibile. Poi, arriviamo finalmente, aggiungiamo un flop, e cioè La Povona di Otessa Mosfeg. La Povona ha deluso tutte le mie aspettative, io ero felicissima finalmente di leggere questo libro, e in realtà ci sono rimasta di un male, di un male, è una cosa incredibile, perché secondo me Otessa Mosfeg ha una capacità di provocare, di far inorridire, di dare fastidio al pubblico, ai lettori, alle lettrici assolutamente, però secondo me è capace di farlo anche affrontando e costruendo delle trame assolutamente non banali, ma non esagerate. Pensate al mio anno di riposo e oblio, che per me è veramente, credo, il titolo contemporaneo perfetto, uno dei titoli che meglio riescono a rappresentare e a illustrare la nostra società, questa tendenza alla produttività, alla costante necessità di fare qualcosa, di costruire qualcosa, secondo me è un titolo provocatorio incredibile nella sua semplicità. Qui c'è una protagonista che praticamente dorme sempre e trova dei modi per dormire. La Povona, secondo me, è troppo esagerato, sicuramente realistico, ma l'ho trovato disturbante senza alcun tipo di motivo, cioè, non lo so, sicuramente la sua è una scrittura sempre molto interessante, che mi è comunque piaciuta, però l'ho trovata un po' eccessiva, anche quando non c'era bisogno, e il fatto che non esista nemmeno un personaggio positivo all'interno di questo titolo, secondo me, gli fa perdere un po' di credibilità. Poi abbiamo Ecopedagogia di Bruna Bianchi, un titolo brevissimo, questo è il titolo di cui vi parlavo all'inizio, che Goodreads non ha presente sulla piattaforma, ed è praticamente basato sul rapporto tra il femminismo e la questione climatica ambientale, sull'importanza di educare i giovani, quindi le nuove generazioni, a questi due temi, quindi al rispetto della diversità. Io l'ho trovato interessante, secondo me poteva fare un attimino di più, perché veramente troppo, troppo breve, come primo approccio ci sta, però, non so, qualche pagina in più sarebbe stato già un attimino più completo come discorso, e quindi lo inserisco in Poteva fare di più. Poi, La Commedia dell'Arte di Sero Ferrone, titolo che ho letto per l'università, per il mio ultimo esame di magistrale, si parla della Commedia dell'Arte, quindi di una forma di spettacolo quasi primordiale, sviluppatasi tra la fine del 400, metà 500 più che altro, quando inizia veramente a prendere consistenza, fino alla metà del 700, quindi più o meno contemporaneamente alla riforma golduniana. Titolo incredibile, perfetto, interessantissimo, se vi piace il teatro e soprattutto vi piace scoprire forme d'arte ormai quasi sconosciute o capire come oggi si è arrivati a un certo tipo di rappresentazione, secondo me è un titolo perfetto, quindi io lo inserisco in top. Poi, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban per me va sicuramente in top, qui è sicuramente il mio amore per questa saga a farmi parlare, però io trovo sempre i libri di Harry Potter una zona di comfort, di un calore incredibile, secondo me il prigioniero di Azkaban è quello che più mi ha coinvolta tra i primi tre che ho effettivamente letto. Spero di continuare questa saga nel 2004 e di terminarla, perché ci tengo veramente tanto. Poi, passiamo a un altro titolo che ho letto per il mio ultimo esame universitario, I canovazzi della commedia dell'arte, di Anna Maria Testaverde. Qui siamo di fronte ad un titolo che raccoglie alcuni canovazzi, dei generici, cioè questa forma primordiale di script, di copione, che però appunto non presentava le battute che i vari personaggi dovevano interpretare, dovevano poi utilizzare in scena, ma appunto si basa solo su una descrizione molto generica delle scene. Io lo inserisco in ci siamo quasi, perché sicuramente è stato un titolo interessante, però ho preferito sicuramente la parte più di ricostruzione storica artistica di Ferrone. Poi, La morte ci fa belle di Francesca Serra, se non sbaglio, altro titolo che ho letto proprio verso la fine del 2023, si tratta di un saggio che ripercorre quella che è la figura femminile nell'ambito della letteratura, dei romanzi, dei grandi romanzi europei, ma non solo, e riflette su come appunto molto spesso, cioè la maggior parte dei casi, le donne vengono utilizzate dai romanzieri come, diciamo, una sorta di simbolo e non come dei veri e propri personaggi utili alla trama. Di fatti queste donne o muoiono oppure vengono praticamente spogliate senza alcun motivo apparente, cioè non c'è nessun bisogno. L'ho trovato un testo molto interessante, secondo me una prospettiva illuminante per studiare ancora meglio i libri che più ci piacciono. L'ho trovato un attimino complicato sotto certi punti di vista e un po' è come se affrontasse la questione un po' di lato, non va nell'analisi specifica se non citando alcuni casi, quindi per me ci siamo quasi. Passiamo poi a un altro titolo che ho letto verso la fine, eravamo praticamente ad ottobre, e cioè Night Beach di Rachel Yoder. Un titolo, una sorta di favola nera sulla rabbia femminile, in particolar modo di questa donna che si ritrova in una condizione quasi contraddittoria, che in realtà è la condizione praticamente della maggior parte delle donne della contemporaneità, e cioè di questa donna, di questa madre, che appunto ha deciso di vivere la maternità pienamente, dovendo rinunciare però al lavoro e non ricevendo alcun tipo di aiuto da parte del marito, che è praticamente sempre assente. Questa sua condizione quotidiana, che si ripete in maniera estenuante, come se non ci fosse effettivamente una fine, un titolo quasi labirintico, dove il labirinto però è proprio la paura, la tensione, l'ansia di questa donna, la porta a vivere una rabbia prepotente, incredibile, che la fa trasformare in una sorta di bestia, e lei dice bestia di notte perché è quello il momento durante il quale si trasforma. Io l'ho trovato un romanzo squisito, per quanto mi riguarda, molto pungente, va dritto al punto, sicuramente un'ottima interpretazione della condizione femminile nella contemporaneità, quindi delle donne che decidono di diventare madri, perché appunto hanno questo desiderio, hanno questo bisogno, ma al contempo la mancanza di sostegno e di aiuto, sia per quanto riguarda la loro carriera a livello lavorativo, sia per quanto concerne la loro salute mentale, quindi anche il rapporto quotidiano con il figlio. L'unica cosa avrei preferito non si ripetesse così tanto negli episodi, cioè alcuni momenti vengono mostrati, raccontati di continuo, poi si svolgono praticamente sempre allo stesso modo. Se fosse stato leggermente più corto, per me era veramente il titolo perfetto. Secondo me ha creato veramente una storia orrorifica incredibile, molto disturbante, però per questo piccolo difetto, che mi ha un po' annoiata ad un certo punto, devo inserirlo in ci siamo quasi. Poi, altro saggio letto nel 2023 è Il corpo elettrico di Jennifer Guerra. Questo è un titolo che volevo leggere da veramente molto tempo, lo definirei più che altro un pamphlet, perché è veramente molto corto, nel quale l'autrice sostiene che in realtà il personale è assolutamente politico, soprattutto il corpo della donna, perché si tratta di un corpo, di una fisicità costantemente messa sotto gli occhi di tutti, anche messa all'agonia mediatica, se vogliamo, senza rispetto assoluto per la privacy, le libertà e la libertà delle donne. Molto interessante, non credevo potesse piacermi così tanto, avevo sicuramente delle riserve, però invece mi è piaciuto molto e mi è stato anche molto utile per la tesi, quindi per me il corpo elettrico va in ci siamo quasi. Poi passiamo ad un altro capolavoro del 2023, un altro dei miei titoli preferiti in assoluto e un altro mattone, cioè La Valle dell'Eden di John Steinbeck. Non mi dilungo perché ve ne ho parlato tantissimo, per me La Valle dell'Eden è veramente il titolo perfetto dell'autore e spero di leggere quello che mi rimane della sua produzione. Altro titolo che mi è piaciuto molto, L'Ordine Nascosto di Marilyn Sheldrake, che è basato sulla vita segreta dei funghi. Marilyn Sheldrake è appunto un biologo, micologo, quindi sicuramente una persona che sa il fatto suo in questi ambiti, in questi termini. Io sono una grande estimatrice dei funghi, sia per quanto riguarda il mangiarli, che proprio mi piace andare a cercarli, insomma, pulirli e via dicendo. Cioè, secondo me rappresentano proprio un momento di contatto incredibile con la natura. Io poi sono una persona che deve assolutamente vivere a contatto col verde, particolarmente bucolica. Lo trovo assolutamente interessante, quindi per me questo titolo rientra nei top. Non l'ho inserito nella classifica del video che è uscito, semplicemente perché sicuramente ci sono dei momenti in cui mi ha un attimino annoiata, però tutto sommato è un titolo veramente fatto molto molto bene. Diflettendoci, quindi un attimino più a freddo, secondo me è veramente molto interessante, anche a chi non piacciono i funghi e non è assolutamente interessato. Veramente ad un certo punto c'è un discorso quasi metafisico che va oltre l'elemento puramente biologico, naturale, della biodiversità. Bellissimo. Poi, la mia famiglia, Gli altri animali di Diorrel. Per me questo libro è un flop e non perché non mi sia piaciuto assolutamente, però l'ho trovato troppo ripetitivo, troppo schematico, troppo ridondante. Ad un certo punto mi sono veramente tanto annoiata, è stato difficilissimo finirlo. Io credo che se fosse stato più corto oppure gli episodi narrati fossero stati più diversi gli uni dagli altri poteva essere veramente il romanzo della vita perché Diorrel parla di tutto quello che a me piace. L'estate, il vivere su un'isola, il contatto col mare, con la natura, con la diversità, c'è il carattere sicuramente antropologico perché questa famiglia si trasferisce dall'Inghilterra in Grecia alla Grecia e trova un contesto geografico di vita quotidiana completamente diverso rispetto a quello a cui è abituata però è sicuramente molto divertente, ci sono dei momenti esilaranti però per il resto veramente non mi è piaciuto tanto. Un romanzo molto lento ma ripetitivo quindi lo metto in flop e non in poteva fare di più perché secondo me doveva fare un attimino di meno e perché io avevo delle aspettative enormi e sono state purtroppo deluse. Poi qui abbiamo L'isola degli alberi scomparsi di Elif Shafak se non sbaglio un altro testo molto interessante che parla appunto di questa eredità familiare dell'importanza della memoria e del riconoscimento delle proprie origini si racconta di queste due isole che sono appunto Cipro e l'Inghilterra e il tutto si concretizza all'interno della figura di Ada che è appunto un adolescente che non sa assolutamente niente sulle origini della propria famiglia se non appunto che i suoi genitori non vogliono assolutamente parlarne io l'ho trovato molto interessante uno spaccato su quella che è la storia cipriota credo sulla guerra anche civile su come l'isola fosse stata divisa però non lo so non mi ha fatto impazzire perché mi ha ricordato veramente tanto l'ottava vita e avendo già letto questo romanzone e inizio anno poi l'isola degli alberi scomparsi non mi ha fatto impazzire sicuramente non è un flop vi dico che io ho delle riserve poi passiamo a un altro mattone del 2023 sicuramente il mattone della vita il mio libro preferito in assoluto di questo anno e cioè Infinite Jest di David Foster Wallace per me Infinite Jest è assolutamente un top ve ne ho già parlato è lungo e largo c'è anche un reading vlog interamente dedicato senza spoiler sul canale invito chiunque a leggerlo vi prego fatelo per me poi passiamo ad una rilettura e cioè l'amica geniale volume primo di Elena Ferrante che io inserisco in top perché stiamo parlando del mio libro preferito in assoluto insieme a Barone Rampante non ho granché da dire perfetto la quintessenza della letteratura è così che tutti dovrebbero scrivere secondo me passiamo a Manifesto Cyborg di Don Narway che io inserisco in flop anche qui il titolo in realtà mi è piaciuto l'ho trovato sicuramente interessante anche questo mi sarà utile come parte conclusiva della mia tesi però l'ho trovato estremamente filosofico e poco alla portata di tutti cioè secondo me si deve avere una base di un certo tipo per poter comprendere appieno i concetti che vengono presentati all'interno di questo libro io darò sicuramente un'altra possibilità più là nel tempo voglio un attimino costruirmi una mia base personale a livello filosofico e poi forse mi ci approccerò c'è anche tanta parte giurisprudenziale quindi si parla anche di bioetica biopolitica temi sui quali io so poco quindi secondo me ci vuole proprio una preparazione primaria per poterlo comprendere e capirlo appieno poi passiamo a un altro top del 2023 inaspettato cioè è stata caldissima di Gabriella Dallago titolo che io invito chiunque a leggere un romanzo contemporaneo secondo me di una scrittrice molto elegante mi è piaciuto tantissimo si racconta appunto di questi colleghi che si rifugiano in una villa di campagna con piscina per sfuggire all'afe al calore della città un testo importantissimo essenziale oggi soprattutto perché è incentrato sul tema della crisi climatica e ho trovato molto interessante affrontare il tema presentandoci però una trama che apparentemente potrebbe non avere niente a che fare con questo aspetto della contemporaneità su un tema così anche scottante e provocatorio secondo me perché in tanti ancora oggi non sono molto sensibili alla tematica vi parlo immediatamente dopo di Sirene di Laura Pugno che inserisco in top l'ho inserito nella classifica top del video precedente semplicemente perché secondo me è un po' simile a livello di tematica d'estate caldissima è sicuramente un distopico anche qui si parla di crisi climatica perché l'autrice si immagina questo futuro nel quale praticamente gli esseri umani non possono più vivere all'aria aperta alla luce del sole perché il sole provoca un cancro alla pelle un cancro mortale e gli esseri umani sono arrivati a sfruttare in maniera senza alcun tipo di scrupolo anche i fondali marini in particolar modo le sirene da qui il titolo del testo è un libro ricco di trigger warning quindi bisogna andarci un attimino cauti l'ho amato cioè secondo me è bellissimo sapere che comunque abbiamo una produzione italiana letteraria così tanto avanti nei tempi e spesso viene anche sottovalutata però dovevo fare una scelta e ho preferito devo dire per gusto personale è stata caldissima i temi sono appunto simili il tema centrale quantomeno poi abbiamo identità di genere e media di Silvia Capechi se non sbaglio titolo fondamentale per la mia tesi mi è piaciuto molto il titolo del libro è molto esplicativo si parla appunto di rappresentazione identificazione di genere all'interno dei media sia in passato che nella contemporaneità molto interessante io lo consiglio a tutti semplice non si va troppo nel filosofico è più basato sulla componente sociologica veramente molto interessante abbiamo un altro titolo che mi è piaciuto ma sul quale appunto non sono del tutto convinta e cioè appunti sulla tua scomparsa improvvisa di Alison Espach carino titolo che ho letto veramente in pochissimo nonostante siano 300 e passapagine però è scritto veramente molto bene non ho apprezzato la deriva che ha preso ad un certo punto la storia perché dovrebbe trattare dell'elaborazione del lutto da parte di una ragazza che ha recentemente perso la sorella in un incidente stradale e si trasforma invece in una sorta di romance adolescenziale quindi per me va in poteva fare di più come va in poteva fare di più falsa partenza di Marion di Messina perché qui avevo veramente delle grandi aspettative ma l'ho trovato troppo ripetitivo troppo ridondante ripete sempre le stesse teorie sociologiche di classe di genere è sempre la stessa storia i personaggi non mi sono piaciuti tantissimo secondo me se non fosse stato così ripetitivo veramente poteva essere un titolo perfetto perché offre un'ottima analisi molto lucida sulla contemporaneità soprattutto sulle difficoltà delle nuove generazioni per quanto riguarda l'ambito del lavoro e sicuramente dello studio e a livello economico e si sofferma molto anche sulle relazioni personali tra giovani purtroppo però non mi ha conquistata perché vi ripeto l'ho trovato troppo ripetitivo abbiamo un altro top cioè Costruisci la tua casa intorno al mio corpo di Violet Coopersmith un titolo basato sul folclore sulla magia sulle credenze la cultura vietnamita bellissimo anche su questo non mi dilungo perché ve ne ho parlato veramente tanto recuperatelo se potete perché è incredibile poi Lazzi di Domenico Starnone per me questo titolo va in ho delle riserve perché mi è piaciuto sicuramente molto il stile dell'autore si racconta di questa famiglia se non sbaglio che vive a Roma una cosa del genere una famiglia dove i genitori si amano tantissimo ad un certo punto si separano ma in vecchiaia continuano a vivere comunque insieme lo so non mi ha fatto impazzire di Starnone io avevo già letto vita mortale immortale della bambina di Milano e l'avevo apprezzato molto di più è diventato uno dei miei titoli preferiti in assoluto l'acce secondo me è carino però niente di che non mi ha conquistata l'ho trovato un po' noiosetto quindi ho delle riserve poi passiamo a critica del cinema femminista questo non ricordo chi l'abbia scritto è un titolo brevissimo saranno tipo 40 pagine in cui si parla del cinema femminista di come questo si è venuto a costituirsi come risposta ad un cinema precedente del tutto escludente le donne quindi interamente basato su una produzione rappresentazione maschile e su come però dopo si è venuta a svilupparsi tutta una critica relativa proprio al cinema femminista interessante un attimino troppo breve secondo me per poter essere completo quindi va in poteva fare di più poi Rebecca la prima moglie di Daphne di Umerie titolo che personalmente mi è piaciuto però anche qui ripetitivo e secondo me con degli elementi e dei momenti assolutamente non necessari ad un certo punto sembrava più di leggere un libro di botanica che un libro vero e proprio con una trama ben precisa una certa caratterizzazione un thriller anche psicologico un giallo cioè proprio da risolvere un mistero niente di che mi è piaciuto sicuramente mi sono piaciute sicuramente l'atmosfera anche se mi aspettavo fossero un attimino più cupe e soprattutto mi è piaciuta tanto la caratterizzazione dei vari personaggi femminili che sono tutti molto diversi tra di loro ma ben definiti io per questo motivo lo inserisco in ho delle riserve poi abbiamo il fondamentalista reluttante di Amid una scoperta incredibile l'autore ovviamente lo conoscevo già ma non avevo mai letto niente di suo il 2024 sarà sicuramente il suo anno perché ho già un titolo in libreria e voglio recuperare altro interessantissimo si racconta un po' di quella che è stata la situazione per quanto riguarda i pakistani in seguito all'attentato alle torri gemelle alle torri gemelle del 2001 mi è piaciuto veramente tanto lo stratagemma narrativo escogitato per affrontare un tema così importante sulla perdita proprio dell'identità sulla perdita delle proprie certezze e delle proprie origini cioè la messa in discussione e sul percorso inverso per riappropriarsene un altro top dalla parte di lei di Alba Desespedes non mi dilungo titolo incredibile sulla resistenza italiana sull'ausilio sul fondamentale aiuto delle partigiane bellissimo poi mi velocizzo un attimino Lessico femminile di Sandra Petrignani titolo incredibile tra i migliori del 2023 una raccolta di pensieri di riflessioni dell'autrice sul diverso modo di scrivere delle donne e degli uomini e su quanto le prime abbiano sicuramente una prospettiva diversa sulle cose e soprattutto sulla quotidianità poi Cleopatra in Frank e Sandy Coco Mellors io lo inserisco in flop perché a parte pochissimi elementi quindi la collocazione geografica New York e alcuni personaggi per me assolutamente un titolo che ha deluso tutte le mie aspettative sembra di leggere una puntata di Gossip Girl non che ci sia niente di male però mi guardo Gossip Girl a quel punto volevo che ci fosse qualcosa di diverso avevo delle aspettative altissime purtroppo sono state deluse colpa mia assolutamente poi Specchio delle mie brame di Gancitano se non sbaglio La prigione della bellezza una cosa del genere è appunto un saggio che riflette su quanto l'estetica e la possibilità l'idea di raggiungere certi canoni estetici per le donne sia letteralmente un inferno tutti i giorni nella quotidianità è sicuramente interessante secondo me poteva affrontare un attimino più nello specifico certe tematiche capisco comunque essere un tema un argomento molto affrontato nella contemporaneità trovo però che tragga troppi riferimenti dal titolo il mito della bellezza se non sbaglio di Naomi Wolf quindi non lo so l'ho trovato poco originale ecco quindi vi dico che per me ci siamo quasi passiamo poi alle donne di Ravensbrück che si tratta di una raccolta di testimonianze di partigiane in generale comunque donne che erano ovviamente erano ovviamente contrarie al nazifascismo e furono però deportate appunto nel campo di Ravensbrück in Germania è un titolo secondo me necessario assolutamente forte importante emozionante sulla disumanità vissuta da queste donne all'interno di questi campi poi Invisibili di Perez per me va in top il saggio della vita se volete saperne di più sul gender gap e quindi sulle differenze tra uomini e donne e come queste differenze e la mancanza di dati vada ad impattare la vita di chiunque soprattutto appunto delle donne nella società è consigliatissimo poi abbiamo Vita meravigliosa di Patrizia Cavalli raccolta di poesie sulla vita sulla morte sull'arte sulla scrittura su qualsiasi cosa voi possiate pensare Cavalli ha una scrittura elegantissima splendida e molto diretta poi l'ho inserito in top non so se l'ho detto poi La spiaggia di Cesare Pavese Pavese è uno degli miei autori preferiti mi piace veramente tanto come scrive lo trovo il perfetto neorealista italiano La spiaggia è sicuramente un titolo interessante racconta di questo professore che si ritrova appunto a vivere qualche settimana al mare con una coppia di amici alla quale poi si aggiungono tanti altri personaggi tra i quali anche un suo ex studente non mi ha emozionata come sinceramente mi aspettavo e sicuramente non come altri suoi titoli lo inserisco in ho delle riserve poi La campana di vetro di Silvia Platt per me va in top dovete leggere questo titolo è bellissimo è uscita anche una nuova edizione e quella che vi ho inserito appunto nella nella TR list è bellissimo sulla salute mentale delle donne sulle aspettative che queste dovrebbero rispettare nella società nella contemporaneità e che invece non vogliono rispettare il più delle volte è bellissimo poi La vedova Van Gogh di Camilo Sanchez per me questo titolo va in flop l'ho trovato veramente molto noioso interessante ma noioso sempre le stesse cose la stessa solfa trita e ritrita niente di che poi abbiamo il manifesto del partito comunista di Engels e Marx per me va in ho delle riserve perché è sicuramente interessante io non l'avevo mai letto per farmi un'idea un attimino più dettagliata ecco di questi principi di questa ideologia ho deciso di dare in occasione niente di che per quanto mi riguarda cioè sono parzialmente d'accordo non so nemmeno cosa dire effettivamente in tal senso perché secondo me non è un libro sul quale avere proprio delle opinioni effettive se non appunto entrando in meriti politici e non è questa la sede poi abbiamo post porno non ricordo di chi sia in cui si parla del porno della contemporaneità sulle diverse forme soprattutto su come in realtà sia una forma anche d'arte molto spesso e di rivendicazione delle minoranze io l'ho trovato estremamente interessante non so dove fosse arrivata perché ad un certo punto è venuto il diluvio universale quindi scusatemi se sentite dei rumori di sottofondo ma cioè veramente una cosa improvvisa allucinante sto dicendo post porno per me va in ci siamo quasi perché l'ho trovato estremamente interessante se volete saperne di più sul tema secondo me può essere un ottimo primo approccio è veramente un pamphlet perché sono 50 pagine poi la società senza dolore di autore per me come sapete ormai siamo amici e questo autore ma il suo nome non so pronunciarlo per me va in ci siamo quasi l'ho trovato anche qui un testo un saggio di tipo antropologico sociologico estremamente intelligente arguto attuale l'autore riflette su come nella nostra società oggi non si lasci più spazio dicevo su come oggi nella nostra società non si lasci più effettivamente spazio alla sofferenza al dolore ma si cerchi sempre una cura una soluzione invece secondo lui è fondamentale attraversare il dolore proprio per poter anche riprendersi perché siamo umani per rinassere effettivamente lo inserisco in ci siamo quasi perché non mi è piaciuta la parte riguardo appunto alcune dipendenze e non mi è sinceramente non mi è sembrato tanto il caso ecco che riflettesse in termini positivi su queste dipendenze però appunto è il suo punto di vista quindi per me non è perfetto per questo motivo poi Nannino l'arte del contare per me il suo titolo va in top è un romanzo bellissimo sull'eredità femminile che una nonna lascia alla propria nipote l'ambientazione quella della Napoli più folcloristica più tradizionale e sull'importanza di raccontare storie di come anche questa fantasia all'invenzione fosse anche una peculiarità delle donne tema che ho riaffrontato anche in un altro titolo il primo che ho letto nel 2024 e lo trovo veramente un ottimo spunto di riflessione la prosa di Stefania Spano secondo me è incredibile riesce a restituire veramente molto bene la diversità e l'eterogeneità di Napoli questo calore questa creatività del popolo partenopeo bellissimo poi abbiamo lo squalificato per me lo squalificato va in ho delle riserve un titolo interessante sulla salute mentale di questo scrittore ha delle implicazioni storiche anche geografiche molto importanti culturali perché fa riferimento al Giappone se non sbaglio di inizio novecento fino ottocento non ricordo benissimo quindi tutto su quindi è tutto un discorso molto individualizzato sulla storia di un singolo personaggio che lascia queste memorie che vive una vita sregolata molto particolare soprattutto dettata da un rapporto burrascoso e contraddittorio col padre e che vuole però essere un po' il riflesso lo specchio invece di qualcosa di più grande di più importante secondo me si perde un po' questo aspetto nel corso della lettura ma questo non rende il romanzo meno notevole è secondo me molto geniale brillante interessante io l'ho trovato estremamente lirico soprattutto nella parte finale poi abbiamo strega di Johan Lickholm che per me va in top una favola nera su queste ragazze che si ritrovano a vivere a lavorare in un albergo dove in realtà non arriva mai nessuno la loro storia si ripete ciclicamente è una sorta di horror proprio perché non avviene niente c'è questa freddezza nei movimenti nella ripetizione un tema molto molto un tema ampiamente affrontato nella letteratura non solo italiana europea ma in generale a livello mondiale è stato paragonato al salone del libro a Dino Buzzati nello specifico a Deserto dei Tartari ecco e secondo me ci sta io il Deserto dei Tartari non ho mai finito di leggerlo voglio sicuramente finirlo nel 2024 però per quel poco che avevo letto effettivamente ci sono dei rimandi interessanti il tutto viene affrontato però con una prospettiva femminista perché avviene anche un femminicidio poi passiamo a Grass di Elisa Manici se non sbaglio che per me va in doveva fare di più affronta appunto il tema della grassofobia all'interno della nostra società soprattutto nei confronti delle donne quindi ritorna il tema dell'estetica di queste aspettative questi modelli irraggiungibili che vengono proposti soprattutto alle nuove generazioni idee media però secondo me non c'è un punto di vista originale sul tema ripete quello che si sa effettivamente già è comunque un titolo importante corto quindi se volete dargli una possibilità trovo che sia appunto anche un approccio intelligente poi abbiamo ora non leggo benissimo i titoli però se non sbaglio questo è il femminismo per il 99% si racconta un po' della storia dei femminismi e quali sono perché il femminismo si intreccia a tante altre tematiche come quelle di classe come al tema etnico al razzismo al discorso sociale antropologico e via dicendo interessante mi ha dato degli spunti di riflessione che personalmente sui quali personalmente non mi ero saffermata in passato anche delle nozioni delle pillole storiche molto secondo me interessanti appunto va in ci siamo quasi non è un saggio perfetto però ci sta e in ci siamo quasi inserisco anche femminismo per tutti se non sbaglio più o meno siamo lì cioè il tema affrontato è pressoché lo stesso cioè la necessità di un femminismo che sia per tutti quindi per tutte le donne di qualsiasi etnia di qualsiasi cultura contesto geopolitico età ma anche per gli uomini le altre minoranze le diversità e via dicendo poi abbiamo assassine di Bolagno non so se il nome e il termine si possa effettivamente dire se posso essere bannata per me questo titolo va in ci siamo quasi una raccolta di racconti tutti molto diversi tra di loro però in generale affrontano il tema dell'esilio il tema della morte il rapporto tra la dimensione dei vivi e quella del sogno e appunto della morte alcuni temi sono autobiografici quindi si parla anche di sudditanza e al contempo di ribellione poetica e letteraria di Bolagno molto interessante poi abbiamo La voglia dei ca e altri fabbri medievali di Barbero interessante lo inserisco in ho delle riserve perché io mi aspettavo fosse in realtà un saggio di riflessioni analisi dei fabbri medievali divertenti appunto basati sugli organi maschili ma in realtà è tutt'altro cioè riflette un attimino all'inizio ricostruisce un po' questa storia letteraria ma poi molto semplicemente riporta in una chiave moderna quindi in una prosa ecco contemporanea storie del passato particolarmente divertenti basato su questi equivoci appunto sulla fisicità maschile e femminile carino niente di che e infine dovremmo essere tutti i femministi di Cimamanda Ngoziadici inserito in flop perché come vi dicevo anche nel video precedente mi aspettavo tutt'altro e quindi ha deluso le mie aspettative sicuramente un libro interessante ma non quello che speravo e credivo allora i libri sono finiti vi ho parlato di tutti i libri letti nel 2023 io spero che il video sia venuto bene mi scuso anche per le condizioni in cui ho dovuto riprendere al buio per i vari problemi tecnici e meteorologici però sono veramente contenta di aver registrato questo video possiamo riprovare questa tipologia se è venuto effettivamente bene questo contenuto io vi ringrazio per il sostegno per la compagnia vi auguro un buon 2024 grazie veramente della vostra compagnia rimanete collegate e collegati perché prossimamente vi parlerò del mio programma di lettura ci tengo veramente tantissimo me la sto studiando molto molto bene quindi spero mi aspettiate effettivamente siete comunque ben propensi e propense a quest'idea io vi ringrazio vi mando un grande abbraccio ci vediamo al prossimo video ciao ciao